Buongiorno a tutti, adesso incomincio questo vlog in bagno, spero che vi sentite oggi vi porto con me, in montagna, e niente, sono qua vicino alla stupetta, a Luca stupetta che ci salva sempre la mattina, quando fa freddo, ci sei lintana in bagno, ci salva stupetta ci vediamo un po' più tardi tutto video dove siamo in curva, non c'è da dire le perle, raccontaci una delle tue perle di saggezza, dai pagani, non essere timido è meglio trovare un tesoro, che calcappaglia non l'ho capita è come dire, non piangere, con l'amico accompagnato è meglio leggere un libro, che è un po' più giusto adesso no, devi fare video, poi la gente, poi mi riconosce ma tu sei quello, quello, quello di Reverend, quello che è stato sbranato, sì, sono io quello che ha fatto i pirati di Star Trek, sono io è che dove va? la che vada lui il problema è andare cazzo faccio oh passami una mano vai vai… bian 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 têm bian un botto di paura ma te non sa andare sa andare ma padre si va fuori non duarım non posso passare e allora togliti te raga bisogna togliersi da qua vedi Ludo se il primo volo allora raga ora proviamo a fare la prima discesa io non mi ricordo minimamente come si va infatti sono già volato troppe volte e niente spero che si senta perché se si sente verrebbe una cosa figa tipo il primo vlog a meno che io sappia sullo snowboard mai visto una roba simile quello che si schianta grande quello anche io faccio così e niente vediamo un po' intanto ne approfitto mentre siamo su qua per parlarvi che allora scusate se stasettimana qua non sono usciti i video allora adesso penso che di video ne farò uscire uno alla settimana perché non ci reggo più dietro stare cioè non ce la faccio stare dietro a tutto quanto con i due video e penso che erano anche troppi quindi niente facciamo che lo lasciamo così su una volta a settimana facciamo non so il giorno penso al mercoledì sempre alle 15 e niente vediamo quando arriviamo ti prego ti puoi non sposarmi indietro perché accade non lo fare ci sto riuscendo raga più o meno dai raga sono troppo zitto voglio parlare ma non ce la faccio perché sono concentrato dato che non so andare so scendere poi solo tipo così perché se vado giù di faccia mi faccio male che secondo me non è molto efficace come tecnica perché cioè è un po' come andare con lo sci spazzaneve tipo però c'è raga dai sempre meglio che niente dai forse ce la faccio a finire una discesa prima di domani esatto oh raga no ero rimasto in piedi perché c'era il tipo io avevo troppo paura di schiantarmi contro quello merda come l'ho tenuta bravo occhio solo che raga la situazione è un po' peggiorata si vede più un cazzo un po' di nebbia mo proviamo a scendere così che già non so scendere con la nebbia cioè non vedo neanche più dove ho messo gli zani cazzo cioè gli zani buonanotte gli snow sbaglio ma solo io vedo tipo a pallini malissimo no Juma dai per favore Juma no no esuca no dai Juma bella raga continua il vlog sul primo vlog in snowboard d'italia cioè raga sono il primo come potete vedere la disabilità è migliorata si vede molto si proprio adesso e noi proviamo ad andare alla cappelletta che c'è una chiesa solo che io non vedo niente vedo tipo tutto a pallini malissimo e cioè si vede uno lì due lì boh non lo so raga spero di non ammazzarmi ma è una cosa impressionante raga cioè cosa raga scendete no come da saluti ma siete sceli dovete star sussolato però no 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 ma che vanno giù però vanno giù troppo a cannone non ti riesci a fermare ma noi no c'è quattro braccia si 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 minchia l'ignoranza che si fa sentire eh ocio aspre questa è l'ignoranza agraria ma che arriva ma che non passa uh ti sverdiccia suca raga mi è scappato mi è scappato mi è scappato lo snowboard mi è scappato lo snowboard è illegale occhio teo scusa porco raga la mia avventura sulla vita è finita qua nel biozzo ho fatto certi scherzi mi sono schiantato e ho prometto in testa come potete vedere mi sono andando a farmi in Italia mentre mi hanno abbandonato tra l'altro e va bene si è conclusa male la giornata va bene ci vediamo e non possiamo di più bye grazie a tutti